E allora chiudiamo la cronaca, apriamo la pagina sportiva, si parla di calcio, d'altra parte è lunedì, si fa un bilancio generale, una volta si giocava solo la domenica ma lasciamo perdere, adesso si gioca stranicamente sempre. Noi siamo nostalgici, sì, sì, infatti, un pochino, e quindi con Massimo Profeta parliamo proprio del punto delle squadre abruzzesi. Allora, partendo dal Pescara, io ho titolato oggi, faccio il solito punto del lunedì dopo le partite del Pescara, in questo caso lunedì perché Pescara ha giocato ieri, Pescara quanto sei bello, perché? Perché la sesta vittoria esterna consecutiva, 6 su 6 fuori casa, del resto Pescara tra l'altro ha giocato anche una grande partita, un primo tempo scintillante, oserei dire, sul campo della Lucchese, 3-1 il verdetto finale, è una squadra che sta convincendo tutti, sta sbaragliando piano piano la concorrenza, anche se ancora presto mancano 10 partite, Baldini ha detto una partita alla volta e sono assolutamente d'accordo con lui, però il Pescara ha già incrementato il vantaggio, più 4 sulle immediate inseguitrici, con una gara, lo ricordiamo ancora una volta, da recuperare contro il Milan futuro all'Adriatico Giovanni Cornacchia, giovedì 21 novembre alle 20.45, di fatto si gioca subito perché c'è un turno infrasettimanale da onorare, il Pescara affronterà il Pontedera mercoledì sera alle 20.45 davanti al pubblico amico, il dato relativo agli spettatori, la prevendita è già partita da qualche giorno, 700 biglietti venduti fino a qualche ora fa, compreso gli abbonati, siamo a 2.500, insomma ci sono ancora due giorni, quindi si spera in una buona cornice di pubblico mercoledì sera contro il Pontedera, che è una squadra che sta navigando, diciamo così, ai bassi fondi della classifica, ha avuto una partenza complicata, ha cambiato l'allenatore, non c'è più Agostini, adesso è stato chiamato, diciamo è stato ingaggiato Leonardo Menichini, che è un allenatore molto esperto, Marina, 71 anni da compiere, vice storico del compianto Carlo Mazzone, nelle tre partite della sua gestione, quattro punti viene dal pareggio interno con l'Intella. Per quanto riguarda il Pescara, le notizie diciamo di oggi, la ripresa nel pomeriggio, sono tutti in buone condizioni. Il Pontedera invece deve fare a meno di due squalificati, vale a dire Italeng, che è un attaccante camerunense che finora ha realizzato quattro gol, deve fare a meno anche dell'esperto difensore centrale Martinelli. Sono infortunati Sarpa, Marrone e il belga Rasbeck, dunque insomma formazione rimaneggiata, è una partita tutta da giocare. Il Pineto, sempre per quanto riguarda la Serie C, ha festeggiato la sua prima vittoria con Tisci in panchina, successo che mancava dal 7 settembre, quindi insomma è passato molto tempo, 3-1 sull'Arezzo, ieri il Pineto ha battuto Lascoli, che sta vivendo un momento difficilissimo, 5 sconfitte consecutive, di cui 4 con il nuovo allenatore Domenico Di Carlo. Il Pineto giocherà mercoledì nel turno infrasettimanale alle 18.30 sul campo del Milan Futuro, il Milan Under 23, che nella giornata di ieri alle 12.30 si è giocata questa partita, ha espugnato il campo del Perugia per 2-0. Beh, tornando al Pescara, insomma l'entusiasmo che ormai circonda anche Baldini, la squadra ha fatto un po' dimenticare quelle contestazioni, cioè si è ritrovato anche il pubblico. Penso proprio di sì, insomma poi del resto Varina i risultati mettono l'accordo tutti. Quando si vince va sempre bene. Esatto, va sempre bene, ci mettiamo anche che c'è il conforto delle prestazioni, perché nelle ultime tre partite il Pescara sta anche convincendo tantissimo sul piano del gioco, l'ha detto lo stesso Baldini, questo è un buon viatico assolutamente, dopo tutto quello che c'è stato in passato a cui facevi riferimento tu.